ragazzi ragazzi l'hanno fatto tutto apposta in che senso è stato l'ordine immaginario si è stato lui era uno di loro il preside non ci posso credere stanno organizzando il nuovo la cosa comostra dobbiamo evitarla pan pan forse dobbiamo evitare la cosa comostra altrimenti moriremo non vi preoccupate ci pensero io a fa che guidare il robot no no se lo fai tutto devo farlo anch'io non è giù attento dietro il dom oh sai cosa faccio dobbiamo fare qualcosa adesso prenderò il getto baldur tu ci lavorerai mentre noi ce ne andiamo forse 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 ah e che adesso c'è il furgone c'è il furgone c'è il furgone c'è il furgone chi è dai dai forza forza ci penso io papà papà aiuto aiuto come non è vero ti stare animando papà c'è il costo gigante forza veloce non voglio che muoio anch'io con il robot dove sei io dove si ci sta capito baldo si occuperà tutto ci farà di usare il robot è un pazzo per fare questo anche se sarebbe un'ottima idea un'altra possibilità per guidare un robot papà sarebbe figo no o no vorresti guidare un robot eh papà salve papà se stanno adarci ti ha costruito una pa a me e quello che è quello che forse succederà al mondo tu forrei il muore tu forrei il muore c'è ma andiamo è la corona la prendo io si dammela sono sussurrati da questa cosa uccidiamole scappiamo papà dobbiamo scappare scappiamo ecco bravo aia 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 papà no 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 perché dal mio stand basti posto buf tu a me sei stato tu tu attaccato non io muovi ti ma ci stanno ricorrendo ho l'inseguimento sta mafe non ci spuglio non ci spuglio vai vai le abbiamo seminati oh mio dio forza papà oh e io ho zero di colpi mi puoi dare qualche colpo ma io li devo fare col piccone cosa devo fare se non potremmo ma perché tu mi fai rubire i colpi ma ma chi hai i colpi quindi qua c'è un colpo sei fermo e mi colpi i colpi ok vi do questo che cos'è l'attaccario potrete chiamare i nostri schieno i nostri scagnozzi aiutanti perché oh cosa vuoi tu sto parlando col bando godo bacio comunque poteste chiamare i nostri scagnozzi e loro potrebbero diciamo bombardare un po' gli nemici perfetto ma dove li prendi tutte se cose sapessi di chiamare i nostri scagnozzi sapessi di chiamare i nostri scagnozzi ma te ci stai con ballo cioè mi sembra ovvio è l'unico tizio che sta in squadra ma noi a parte a parte tu e io modo e a me servo 40 di vita oh qua c'è un copio ok ho letto tutto ma poi dobbiamo andarcene meno male a chi sovolare oh il mio attento richiamo l'attaccario l'ho ucciso ho ucciso ho mai perso ho ucciso ma papà sono andato in un sacerdote è mio scappa l'amico no 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 mi faccio il medikit controlla è la mia vista mamma mia poco fa il campeggio mole madre ma c'è che si fa avanti papà perché capitano tutti a noi dammi la mia vista ridammi la mia vista ma la vado a prendere io ok ok vai 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 no oh no oh no papà 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 aiuto sto morendo sto morendo sto morendo eh direi vindo basso vindo basso sto morendo sto morendo bravo che faticaccia papà non credo che riusciremo a sopravvivere alla terza guerra isolaria cioè sarebbe la guerra dell'isola di fortuna quindi guerra fortunaria ma fa attenzione sta arrivando uno grazie clombo ma perché lo spari non sono neanche pronto grazie clombo